Come il tuo sono stato aiutato da te e da tua nonna, negli altri lei non mi ha aiutato, poi mi ha detto fai tutto quello che vuoi, quindi hai dovuto portare il tutto, chiamare il giardinorio, farmi mandare tutte cose, chiamare la fiorista, farmi mandare i pappagalli da Palermo, da un'amica di mia madre, quale mi hai visto con tutte le tue scimettine, e qua c'è tutti gli animali che bevano nei tuoi bicchieri, come ricatto, bellissima la ricetta. Le ricette io ho letto la tua intervista, ho visto le cose che ti piacevano e le ho rilassurate secondo quelle che erano nella mia visione, ma in realtà le ho cucinate, sperimentate, quelle che mi sono piaciute le ho scritte, è un lavoro a me. Questa cosa è il mio capitolo, la tavola che ho fatto io, un po' si sceglie. E ti sei intervistato da solo? Sì. Bellissimo, bravo!